E' un segno di partecipazione in una Firenze che spesso è troppo sorda, troppo richiusa in se stessa. Questa partecipazione mi fa sperare bene, ecco, in una primavera fiorentina, in una futura estate fiorentina. Grazie mille. I problemi penalistici li affronteremo tutti insieme l'11 novembre, quando verrà il Presidente Lattanzi nella sede di Novoli. Oggi io voglio soltanto spiegarvi qualcosa delle motivazioni reali di questa iniziativa e di tutte le iniziative che le fanno Corona. Dunque, intanto, sono lieto di rappresentare qui la Corte Costituzionale. Voi direte, ma perché la rappresentanza la si affida ad un Presidente Merito? Semplicemente perché oggi il Presidente, in funzione e tutti gli altri 14 giudici, sono in udienza solenne stamattina, udienza pubblica, e stasera, se l'udienza non è già finita, in Camera di Consiglio, a discutere di grossi problemi anche penalistici. Quindi è ovvio che la loro presenza era addirittura oggi impossibile. Lattanzi sarà viceversa sicuramente a Firenze, come ho detto, l'11 novembre. Ecco, vorrei, siccome l'ho vissuta da vicino, spiegarvi come è nata questa iniziativa e altre iniziative consimili. Tutto è avvenuto nel contesto dell'ultimo quadriennio di vita della Corte. Un quadriennio che si è scandito nel primo biegno con la mia presidenza e nel secondo biegno con la presidenza di Giorgio Lattanzi. Eravamo nel 2016, appena eletto, si trattava di affrontare un problema. Erano 60 anni allora della vita giurisdizionale della Corte. La prima seduta della Corte avvenne il 23 febbraio del 1956. Far festa, ma come? Evitare le cerimonie sonore, ma anche vacue. Una prima proposta mia fu accettata immediatamente dai colleghi e fu di un convegno scientifico che noi tenemmo come bilancio di questi 60 anni nel maggio del 2016. Non ci interessa. Però io lanciai un'altra iniziativa e la lanciai con questa affermazione netta che ho ripetuto un'infinità di volte nei miei discorsi insieme alla Corte. Il Palazzo della Consulta, che come voi sapete è la sede della Corte che è sul Colle davanti alla piazza del Quirinale, il Palazzo della Consulta non è un castello murato, ma è un palazzo con porte e finestre aperte verso l'esterno. E l'esterno vuol dire la società civile. C'era un desiderio da parte mia che fu raccolto immediatamente dai giudici per organizzare delle esternazioni. E la prima esternazione fu quella di pensare ai giovani, ai giovani delle scuole medie superiori, che sono sacrificatissimi, almeno nei licei, sotto il profilo di un minimo di conoscenza giuridica che non hanno e soprattutto sul fatto che si ignora troppo a fondo la Carta Costituzionale che è il breviario giuridico di ogni cittadino. Io l'ho detto ripetutamente ai vari ministri della pubblica istruzione, ma ho trovato soltanto delle accoglienze puramente labiali, puramente salivari, ma che non si sono poi tradotte in qualcosa di concreto. Anche l'educazione civica, che insomma non mi entusiasma affatto, la traduzione in presenza didattica è stata rinviata all'anno prossimo. Comunque, ecco, una prima iniziativa i giudici concordarono di metterla immediatamente in atto. I giudici, tutti a cominciare dal Presidente, si sarebbero dovuti recare in tutta Italia, ovviamente nei solo capoluoghi di regione, perché siamo 15 e quindi un numero esiguo, e avremmo fatto un'opera che vorrei quasi chiamare missionaria, cioè spiegare loro che la Costituzione non è una carta, è anche una carta, ma è un complesso di valori, un complesso di valori che ha generato dei principi, principi che hanno generato i diritti fondamentali del cittadino e diciamo più in genere dell'uomo. Spiegare anche che cos'è questo strano istituto costituzionale della Corte, della Corte che siede nella consulta e che si onora di questo aggettivo costituzionale, si onora ma sentendo anche l'onere di sentirsi impegnata in una trasmissione a un pubblico più vasto di quei valori costituzionali che spesso sono ignoti, soprattutto ai giovani. Ed ecco che ha cominciato sotto la mia presidenza questa magnifica avventura, dopo ostacoli che il governo Renzi ha posto alla prima nostra proposta, con il governo Gentiloni questi ostacoli sono stati superati, io ho potuto addirittura con il ministro Fedeli l'8 gennaio del 2008 firmare una convenzione, perché è ovvio che il ministero della pubblica istruzione deve essere l'interlocutore necessario, le sedi in cui si svolgeranno, si sono svolte naturalmente viste da oggi, le sedute dei giudici, le elezioni dei giudici deve essere fissato dalla burocrazia ministeriale. E devo dire con un grande entusiasmo, vi do questo minimo esempio. Io cominciai, come presidente, tendi la prima lezione, ma alla presenza di tutta la Corte Costituzionale al completo, nell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di un soborgo di Roma. Io temevo che questi ragazzi che studiano da tecnici, studiano per diventare agronomi, fossero un po' indifferenti ai problemi che io sollevavo per loro. Li trovai intanto preparati dai loro docenti e entusiasti di poter maneggiare finalmente questi valori e questi diritti che troppo spesso sono delle locuzioni verbali. Io sono riuscito a impostare e a tradurre in effettività questa prima fase. Abbiamo come prima fase pensato ai giovani con grande successo. In tutta Italia, nessuna regione esclusa. però abbiamo cominciato a discutere anche qual è un altro luogo in cui forse è proprio necessaria questa nostra presenza. E già sotto la mia presidenza indicammo, e lì ci fu veramente consulente straordinaria alla dottoressa Donatella la quale è la nostra consulente per la comunicazione e che è espertissima sul piano del diritto. Il carcere. Ecco, ci sembrò che accanto ai giovani meritevoli della nostra attenzione fossero meritevoli e nella nostra attenzione anche questi concittadini i quali non dovevano sentirsi degli esclusi. Che un organo costituzionale si chini ad un colloquio con loro ci sembrava che fosse come dire la migliore testimonianza da dare. Nulla più che un colloquio. Giudici costituzionali esperti di diritto i quali vanno a parlare con loro certi che la Costituzione vuole dalle pene non qualcosa di afflittivo ma qualcosa di rieducativo. E la migliore rieducazione è un colloquio che si tiene all'insegna della massima umiltà un colloquio quasi tra pari in cui l'escluso cioè il carcerato che può sentirsi escluso si sente legato anche da un minimo o da un massimo di fraternità. Io non ho fatto a tempo a attuare questa seconda fase l'ha attuata egregiamente Giuliano scusate Giuliano Vassalli è il grande penalista il grande ministro che è stato ricordato poco fa dalla 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 prefetta il nostro Giorgio Lattanzi un grande penalista è riuscito ad attuare perfettamente questo disegno naturalmente è un disegno che non si blocca è un disegno che ha già una sua attenzione sia nella prima che nella seconda fase la seconda fase per i giovani è già in attuazione e addirittura il presidente Lattanzi mi ha chiesto di partecipare anche se è merito e io sono già stato addirittura in una lontana provincia italiana la provincia del Molise la regione Molise provincia in senso lato dove ho avuto alla fine di settembre accoglienze entusiastiche proprio credo che queste iniziative per cui un organo costituzionale cala dal colle del Quirinale in questo colloquio con i cittadini sia estremamente educativo a ogni livello ora naturalmente c'è anche da pensare a una seconda fase per le carceri però credo che il bilancio fino ad oggi sia un bilancio effettivamente assai positivo e spero tanto che la Corte Costituzionale continui ed insista in questo sentiero che è un sentiero di civiltà giuridica civiltà giuridica e civiltà sociale grazie grazie